Benvenuti in questo nuovo video, sono Pisciale, sono contento di essere qua perché ho avuto la fortuna di ritrovarmi tra le mani questo bellissimo bauletto di Pikachu Terra Crystal, bellissimo bauletto e fa anche un sacco di promesse, dice che all'interno ci sono un sacco di tesori Pokémon quindi io direi di andare subito ad aprire e vedere cosa c'è all'interno, dopodiché valutiamo se vale la pena acquistarla oppure no e la stiamo per aprire, eh vabbè ma spettacolo, ragazzi ma questo Pikachu è bellissimo, davvero davvero bello quindi all'interno abbiamo la monetozza e le tre carte di Diplin, Oregon, Orgerpon, maschera turchese e Pikachu, voglio andare a vedere questo Pikachu perché è proprio proprio interessante guardate che meraviglia con questa vista dall'alto, con queste piastrelle sul pavimento, veramente veramente un capolavoro mostriamo anche le altre due che sono Diplin e Orgerpon, maschera turchese e va bene, dopo queste carte che abbiamo visto all'interno della box del bauletto andiamo a vedere cos'altro c'è dentro all'interno abbiamo anche gli adesivi molto carini 3, 4 fogli di adesivi e un bellissimo mini album porta carte molto molto carino quando avanti il Pikachu che c'è anche sulla confezione e riprendiamo subito qui le bustine che abbiamo detto che dovrebbero essere 6 e ne abbiamo 2 di scintille fulgoranti l'ultima espansione che è uscita una di corona astrale una di cronoforze addirittura lucentezza siderale e un paradosso temporale allora io direi di iniziare dal paradosso temporale e poi via via andremo fino ad aprire lucentezza siderale allora paradosso temporale prima bustina e passiamo subito a corona astrale cerchiamo di trovare uno Squirtle Bulbsour allora iniziamo con un Churchplugutut Grubbin Greybeard Todskrull Algaro allenatore è bella questa Minxiao Tauros bellissima questa carta Tauros Reverse Gemma gravitazionale Reverse e Balfallon Olografico e anche qua codicino per voi ora bustina di cronoforze e all'interno abbiamo Metang Carcol Grotl Finisen Carino Caldeo Delmice Delmice Electivire Palafin Reverse Delmice Reverse e il mostruoso Scoviline X che lo mettiamo qua è il codice e ora le due bustine di scintille folgoranti nello scorso video ho trovato non uno del blister da 3 di Zaptos ma ben due Pikachu il gold e l'ex normale e chissà se saremo altrettanto fortunati codice giriamo Mantine Bronzong Sandygast Drillbur Baccapasflo Azumeril Agnileif Delmice bellissima carta di O.O. e Gastrodon Olografico seconda bustina sbustiamo Manny Might Slakot Oricorio Bronzor Monte Gravità Dugtrio Argusias Swablu Reverse Tima Reverse e Pachia Olografica peccato e qui non abbiamo trovato nulla però abbiamo ancora una bustina di lucentezza siderale divina abbiamo anche un ospite ovvero la mia gatta che ha già deciso di andare via e andiamo subito ad aprire questo lucentezza codice nero e potrebbe essere di buon auspicio e anche questo ve lo regalo e andiamo a vedere cosa troviamo allora io già dietro vedo qualcosa a brillare quindi evviva quindi Manny Might Teddy Ursa Sinizzle Miss Drivus Barb Watch uh full art io mi sono dimenticato di fare il trick il trick da quattro full art di Claymore con il suo allenatore e dietro abbiamo un bellissimo Etran V full art spettacolo e dietro abbiamo le ultime carte ragazzi per questo video è tutto vale la pena io dico che non mi è dispiaciuto sbustare un po' di espansioni quindi per me ci sta quindi se anche voi volete acquistare questo bauletto ormai è tardi non se ne trovano probabilmente più nessuna parte però questo Pikachu veramente veramente bello e ragazzi ci vediamo in un prossimo video spero che il video vi sia piaciuto e quindi lasciate un like e alla prossima ciao